E' un'altra parte. Io vi ricordo che questa università è stata concepita per noi, figli di Borghesi, e non per i figli degli operai o dei contadini. Alleggo qui che lei è un poliziotto, è vero? Sì, sì, sto qua alla Castro Pretoria. Come mai le è venuta questa bella idea? Quella di fare il poliziotto o l'attore? L'attore. Come in un sogno. Ho capito. Ti consiglio l'utilizzo dell'allievo per le operazioni investigative, vedi, infiltrato. Punta quella ragazza, capito? Se è un bel ragazzo, su certe occasioni le devi sfruttare. Tu stai rovinando la tua vita e la nostra. Al futuro non ci pensi? Sì che ci penso al futuro. Ma non è quello che avete deciso voi. Stop! 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 Che ci fai qui? T'hanno mandato a spiare. Io ti amo. È da quando ti sei seduto che cerchi di capire se so, se non so. Sei tranquillo, so. Da quando mi sei seduto invece sto pensando un'altra cosa. Sto pensando, non so se Laura è d'accordo. Sto pensando, ma quando è che se ne va questo rompicoglioni? Ce lascia cinque minuti da soli. Questo stavo pensando. Però è un pensiero, eh. Non è che era una cosa proprio... Travolo. 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 Grazie a tutti